Salve a tutti ragazzi, piccolo annuncio, oggi andrò in live su Twitch, link in descrizione e nei commenti Non so ancora dirvi bene l'orario, però l'arco temporale va dalle 14 alle 15 Quindi massimo alle 15 partiamo e ci facciamo qualche partita weekend league insieme, dalle 5 alle 6 Poi se ho più tempo a disposizione ce ne facciamo anche di più Detto questo vi aspetto in live, lasciate il follow al link così vi arriverà la notifica quando andrò in live Detto questo un saluto da Gemma Gamer